Ok, la porta di Ishtar, i ragazzi stanno visitando per la prima volta l'impero babilonese, stanno leggendo tutti i cartelli, questa è Benedetta, qui in basso vediamo chi c'è, c'è un babilonese, questo è Giordano, vediamo se c'è qualcuno che sta interagendo con un accadico, c'è qui il postino, ok, quello è un bambino che va in giro, vediamo, accadiamo, no, ho perso tutti i bambini, ecco qua c'è qualcuno, Giordano, sempre Giordano, vediamo se troviamo un'altra, gli altri bambini, ok, se è la ricreazione noi ci interrompiamo, vediamo, allora interrompo la registrazione.